Buongiorno, eccoci. Allora, oggi ci occupiamo dell'ultimo punto della parte relativa ai monomi che è quello relativo al calcolo del massimo comune divisore del minimo comune multiplo tra monomi diversi. Abbiamo già visto che nel caso di espressioni numeriche il massimo comune divisore è formato dai fattori primi comuni con l'esponente più basso, mentre il minimo comune multiplo è formato dai fattori primi comuni e non comuni con l'esponente più alto. Si ragiona in modo praticamente del tutto analogo nel caso dei monomi, considerando il fatto che il monomio si considera multiplo di un altro se la loro divisione dà ancora un monomio e quindi quello che conta, volevo dire, che è la parte letterale, la parte, i coefficienti numerici, se si riesce a trovare il loro minimo comune multiplo il massimo comune divisore bene, se no altrimenti lo si mette uguale a 1, ma la cosa migliore secondo me è procedere con un esempio. Immaginiamo di considerare questi monomi, per esempio, che ne so, 3x il primo monomio, poi 2x alla seconda e 4x alla quarta y. Allora, per quanto riguarda il massimo comune divisore tra questi monomi, questo sarà un monomio che sarà formato da l'MCD tra le parti numeriche se queste sono intere. Quindi la prima parte sarà l'MCD tra 3, 2 e 4. Quindi abbiamo i fattori comuni che non ce ne sono perché il 3 presente sono nel primo, il 2 nel secondo e nel terzo, quindi l'MCD avrà un coefficiente letterale che è 1, per quanto riguarda la parte letterale metteremo le lettere comuni con l'esponente più basso. In questo caso l'unica lettera che c'è in tutte le parti letterali è la x e l'esponente più basso è 1. Quindi qui il massimo comune divisore è il monomio di grado più alto che sia divisore di tutti quanti, che è solo x. 1 per x lo scriviamo x. Quindi per MCD di diversi monomi si intende il monomio di grado massimo che sia divisore di tutti i monomi. Cioè se io prendo uno di questi, ciascuno di questi tre monomi e lo divido per x ottengo un monomio, non una frazione algebrica. Ok? E quindi quello che è rilevante, quello che è fondamentale nell'MCD tra monomi sono essenzialmente le parti letterali. Se poi si riesce, nel caso per esempio che i numeri siano interi, a trovare l'MCD anche degli coefficienti, tanto meglio, se no non ha importanza. Infatti diversamente dalle parti numeriche, dalle espressioni numeriche, i monomi non hanno un unico MCD. Se io qui scegliessimo due x sarebbe comunque un monomio divisore dei precedenti. Ok? Passiamo invece all'MCM, il minimo comune multiplo. il minimo comune multiplo sarà dato. C'è una domanda? Sì. Dimmi. In questo caso la Y la teniamo fuori perché solo... Certo, perché la Y appare solo nell'ultimo monomio, quindi non è una lettera comune. Ok? Quindi qui, fatemi completare questo schema. Facciamo così. Le tre parti numeriche danno 1 perché non hanno fattori comuni. Le parti letterali hanno in comune solo la X, con l'esponente più basso che è l'1. Ok? Quindi il monomio MCD è X. Nel caso invece dell'MCM, prenderemo, visto che si può fare il minimo comune multiplo tra tutti quanti i fattori numerici, quindi il minimo comune multiplo tra 3, 2 e 4, che è 12, quindi 3 per 4, per le lettere comuni e non comuni con l'esponente più alto. Quindi qui c'è X e Y. L'esponente più alto a cui appare la X è 4. L'esponente più alto a cui appare la Y è 1. Quindi qui abbiamo, anche in questo caso, un monomio formato da, come coefficiente numerico, l'MCD dei coefficienti numerici. E come parte letterale, un'espressione formata da le lettere che ci sono in uno o più monomi, quindi comuni e non comuni, con l'esponente più alto al quale appaiono. Proviamo un altro esempio. Vediamo questo. Cosa succede nel caso che avessimo avuto, anziché questo monomio, uno con uno o più coefficienti numerici. Supponiamo invece che avere 3 avessimo avuto un terzo X, e poi, per esempio, meno 2X alla seconda e 4X alla seconda Y. Allora, qui abbiamo un monomio con un coefficiente numerico che è una frazione. In questo caso, l'MCD e anche l'MCM non può contenere l'MCD delle parti numeriche perché uno è un terzo, quindi è una frazione. In questo caso, si lascia 1 come coefficiente numerico del monomio MCD. E poi si ragiona in termini di lettere come abbiamo fatto prima, cioè le lettere comuni con l'esponente più basso. Quindi in questo caso abbiamo 1 volte X, quindi X è l'MCD. Idem per l'MCM, visto che non possiamo trovare un multiplo intero di un terzo, prendiamo 1 come MCD e ci occupiamo solo della parte letterale, quindi abbiamo X alla quarta Y. Quindi trascuriamo, nel caso non si possa operare con la parte numerica per diversi motivi, ad esempio la presenza di frazioni, ci occupiamo solo della parte letterale. Dimmi? Ma anche se gli altri due monomi non hanno come coefficiente una frazione? Certo, basta che uno solo abbia una frazione, perché l'MCD riguardano l'insieme di tutti e tre. Se anche uno solo di questi ha un coefficiente frazionario, ovviamente l'MCD e l'MCD non si possono più fare in termini numerici. E quindi in questo caso mettiamo sempre 1. Si lascia sempre 1, sì. Dimmi un'altra domanda, prego. Ecco, stavo appunto per considerare quel caso. Se invece ho una situazione in cui, facciamo quest'altro esempio, facciamone uno più breve magari, che ne so, 3X alla seconda e meno 2XY. Qui ho due coefficienti, entrambi interi, ma uno positivo e uno negativo. Normalmente, ma non è obbligatorio, qualche volta può convenire a fare il contrario, l'MCD e l'MCM si prendono tutti col segno più. Quindi qui avremo, che ne so, qui abbiamo 3 e 2, quindi 1, la parte numerica, X alla seconda e XY, la parte comune è X. Mentre per l'MCD è 6X alla seconda e Y, tutti e due col più. Però dipende un pochettino dalla situazione, perché sarebbe lecito anche prendere quel segno meno. Perché comunque sono, il monomio X è comunque un divisore di entrambi, il monomio meno X è anche un divisore di entrambi, e anche meno 6X alla seconda e Y è multiplo di 3X alla seconda ed è multiplo di meno 2XY. Qui dipende da... vanno bene entrambi. Diciamo che normalmente si prende quel più, se non ci sono motivi particolari per optare per il segno meno. Detto questo, proviamo a fare qualche esercizio dal testo. Quindi ripeto, in conclusione, se ho diversi monomi e devo prendere il massimo comune divisore, questo sarà qualunque monomio che abbia il grado massimo e che sia divisore di tutti quanti, quindi formato dalle lettere comuni con l'esponente più basso. Mentre il minimo comune multiplo sarà quel monomio che è formato dalle lettere comuni e non comuni con l'esponente più alto. Se poi si può fare l'MCD e l'MCM anche dei coefficienti numerici, si fa anche quello. Se no, si sceglie di mettere l'1. Vediamo per esempio l'esercizio. Ecco, questo qua per esempio, il 373 a pagina 260. Qui propone tre monomi. Il primo è meno 3X alla quarta, Y alla seconda, Z alla quinta. Poi abbiamo 6XY alla terza e poi ancora 2X alla seconda, Y alla seconda, Z. Allora, l'MCD sarà un monomio formato dalla parte numerica a MCD che vale 1 perché ho 3 che c'è solo nel primo e nel secondo e 2 che c'è solo nel secondo e nel terzo. Quindi metteremo 1 come coefficiente numerico. per le lettere comuni, qui le lettere comuni sono, fatemi evidenziare, della X e la Y perché Z c'è solamente nel primo e nel terzo. Quindi avremo X con l'esponente più basso a cui appare è 1 e Y con l'esponente più basso a cui appare che è 2. Quindi qui abbiamo che l'MCD è X, Y alla seconda. Ok, poi invece l'MCD, il minimo comune multiplo sarà, questa volta se prendiamo quel segno più, anche in questo caso, avremo 3, 6 e 2, hanno MCM che è 6. Poi le lettere sono, quelle comuni e non comuni sono tutte, quindi X, Y e Z con l'esponente più alto. Per la X l'esponente è 4, per la Y è 3 e per Z è 5. Come vedrete a breve, l'MCD e l'MCM tra monomi ci serviranno quando dovremo semplificare le frazioni algebriche, li useremo l'MCD. Quando dovremo sommare diverse frazioni algebriche, dovremo trovare il denominatore comune, quindi ci servirà il minimo comune multiplo tra tutti i denominatori. quindi quello è un tipico esempio di utilizzo di MCD e l'MCM. Vediamo se troviamo ancora un esercizio. Per esempio, che ne so. Allora... Allora... Quanti esercizio su questo? Proviamo ancora in questa pagina, ok? Troviamo questo. L'esercizio... diciamo... il 377 sempre a pagina 260 da tre monomi che sono x alla sesta y alla settima z io li separo con un punto e virgola poi 2x questo è un 2x alla terza y alla sesta e poi 3z alla seconda qui abbiamo i coefficienti numerici sono 1, 2 e 3 quindi l'MCD ha coefficiente numerico 1 per le lettere comuni qui non ce n'è neanche una perché x sta solo nel primo e nel secondo y anche e z solo nel primo e nel terzo quindi e qui il il massimo comune divisore è 1 quindi troviamo pure questo questo per quindi è il monomio 1 mentre il minimo comune multiplo abbiamo i coefficienti numerici 1, 2, 3 quindi il minimo comune multiplo è 6 poi c'è x y e z gli esponenti sono il più alto di x e x alla sesta il più alto tra y e y alla settima e il più alto di z e z alla seconda quindi l'MCM6 x alla sesta y alla settima z alla seconda ok proviamo ancora un altro per esempio facciamo l'ultimo il 380 quindi abbiamo 6 a alla 4x poi b alla 12 c alla 8y questo è il primo monomio poi c'è 5 b alla settima c alla 4y e infine 3 a alla x b alla quinta e c alla 7y qui come ci regoliamo mcd sarà qui abbiamo 6 5 e 3 non ci sono fattori comuni e quindi teniamo 1 poi le lettere sono la lettera a appare solo nel primo e nel terzo quindi a non c'è b c'è invece in tutti quanti quindi fatemi cancellare questo ecco b c'è nel primo nel secondo e nel terzo e c anche quindi le lettere comuni saranno da b e c l'esponente più alto è scusatemi quello più basso è b alla quinta e per c abbiamo c alla 8y nel primo 4y nel secondo 7y nel terzo il più piccolo è 4y qualunque cosa sia x quindi il mcd sarà b alla quinta e c alla 4y qui abbiamo lettere anche negli esponenti questo è una cosa che può verificarsi dimmi c'è una domanda se fosse c se fosse tipo solo una c tipo 8 elevato alla x non si potrebbe più mettere c non ho capito 8 elevato alla x in che senso in quel caso non avresti modo di confrontarli no quindi non si potrebbe mettere la c nel minimo non puoi confrontarli hanno esponenti diversi si e allora e mentre mcm avremo 6 5 e 3 quindi 30 minimo cune multiplo poi a b e c con l'esponente più alto quindi avremo 4x e x più alto è 4x in b abbiamo tra 12 7 e 5 il più alto è 12 e in c tra 8y 4y 7y abbiamo 8y quindi questo è il minimo comune in multiplo c'era qualche altra domanda? sì sempre riferita alla domanda di Alessio sì quindi se per esempio il primo monomio avesse c alla 8x c non potrebbe essere considerato la parte letterale comune dipende dai valori delle lette in questo caso non possiamo confrontarli no perché non abbiamo un modo qui qualunque sia y un esponente comunque è dato in termini di y stesso ma se ho esponenti diversi che non sono per me che ci fosse 8x invece che 8y allora non potrei dire se tra 8y e c'è 8x e 4y quale è maggiore no quello sì ma non mettiamole anche la c come parte comune esatto un attimo solo eccoci ora qui concludiamo questo esercizio ok e vediamo un altro esempio vediamo questo immaginiamo di avere per esempio che ne so questo sul libro non c'è 4a alla seconda b meno un terzo a b alla seconda e 5 settimi a b in questo caso abbiamo coefficienti numerici frazionari quindi sia nelle mcd che nelle mcm prendiamo come coefficiente 1 per qui a e b sono in tutti i monomi quindi mettiamo entrambe le lettere l'esponente più basso è 1 quindi qui le mcd e ab per le mcm anche avendo coefficienti frazionari lasciamo 1 per l'esponente più alto di a e 2 e quello di altri più alto di b e la seconda quindi qui alla seconda b la seconda e le mcd ok questo direi che per quanto riguarda le mcd e le mcm spero di essere stato chiaro è tutto quello che dovrebbe essere utile per calcolare queste grandezze per diversi ma no ok se non ci sono domande però mi fermo qui è tutto quello che è